E' una semplice intervista banale. E lui com'è? Educato. Sto cazzo! Intelligente. Se l'uomo scorreggia, vuole dire che anche l'uomo, chiedo scusa, anche Dio scorreggia. Un po' mi ha imbarazzata. Facciamo sesso. Ha degli interessi al di fuori del lavoro. La vagina depilata. Insomma, mi guardi. La guardo. Mi guardi. La guardo. Mi guardi. La guardo. Mi guardi, mi guardi, mi guardi. La guardo. Non mi interessa una storia d'amore. Resto, 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 resto. I miei gusti sono molto singolari. Non capiresti. Illuminami allora. I'm a fire in my labor! No. La guardo.